La paura del coronavirus sta cambiando le abitudini delle cesi, ma quanto sappiamo davvero del virus che ha messo in ginocchio la nostra nazione? L'abbiamo chiesto al dottor Mauro Minelli, immunologo e allergologo. Il coronavirus è un virus che è capace di generare una sindrome respiratoria, che viene catalogata come sindrome similinfluenzale. Quindi una sindrome che colpisce fondamentalmente l'apparato respiratorio, che può generare in determinate condizioni, questo ricordiamolo sempre, in determinate condizioni di soggetti che possono essere più compromessi sotto diversi punti di vista, dei focolai broncopolmonitici che possono essere anche particolarmente importanti. Qual è la significatività di questo virus rispetto all'ordinaria sindrome influenzale? Che è molto più aggressivo, perché? Perché è un virus nuovo, è una variante nuova, è una variante che non esisteva precedentemente. Di conseguenza l'uomo non è minimamente immunizzato, è completamente scoperto dal punto di vista anticorpale. Imperativo quindi rispettare le regole, ma aiutarsi un minimo anche con l'alimentazione. I suggerimenti sono quelli che solitamente si danno nelle sindrome influenzali, cioè una dieta classicamente fondata su alimenti vegetali, sulla frutta. Anche sulla verdura eventualmente e soprattutto che sia supportata da un'integrazione di sali minerali o comunque di antiossidanti o comunque di sostanze che possano supportare in qualche modo il sistema immunitario. Ben inteso, non è che chi fa questo evita il coronavirus, intendiamoci bene, perché non ci sono indicazioni di questo genere. Chi fa questo mette il proprio sistema immunitario in una condizione semmai più positiva, più pronta per poter rispondere all'aggressione di un agente virale.